Mazzanti, il tema delle scogliere non deve avere una guardia abbassata perché è passata la mareggiata, però i problemi rimangono lì? I problemi rimangono, il governo, in particolare il ministro Costa, aveva stanziato con il piano proteggi Italia ben 11 miliardi in tre anni contro il dissesto idrogeologico e per la difesa della costa. Purtroppo Ceriscioli non ha chiesto per ben due occasioni i soldi per le scogliere di Fano, ci voleva un milione e purtroppo anche sul nostro sollecito Ceriscioli questi soldi non li ha chiesti e ora li abbiamo persi. In questo momento è uscito il bando, finalmente era ora con un grande ritardo per la scogliera davanti a Bagni Maurizio, tuttavia ancora la situazione rimane in sospeso per le scogliere davanti a Bagni Gabriele e a Bagni Carlo. Ovviamente in quel punto della Sassonia il mare sfogherà con più forza e quindi il problema sarà ancora più acuto. Noi ovviamente abbiamo sollecitato sia l'amministrazione a stanziare fondi comunali per cofinanziare questo intervento, però è ora che la regione faccia la sua parte, la faccia presto perché non si può più aspettare. I balneari ovviamente sono in forte crisi anche dopo le ultime mareggiate e noi ci chiediamo anche come mai la regione non abbia chiesto questi soldi statali perché se li avessero chiesti a settembre la situazione era già risolta perché c'è stato risposto che non c'era il progetto esecutivo, questa ovviamente è una responsabilità molto grave della regione prima di tutto, insomma purtroppo quello che è passato è passato e non si può più sistemare. In questo momento noi continueremo a monitorare, a mettere fiato sul collo anche all'amministrazione comunale affinché la situazione venga risolta anche per il tratto di spiagge che rimane scoperto.